Guglielmo Baci, tecnico dell'Annorese, è stata una settimana particolare questa che avete trascorso, insomma le notizie che arrivavano da Terracina vengono o non vengono, insomma come l'avete gestita? Vi siete allenati come sempre? Sì, noi sicuramente ci siamo allenati come sempre, un po' di problematiche abbiamo avuto a causa del tempo perché per qualche volta ci siamo dovuti andare in palestra, però la nostra settimana è stata la settimana tipo, sapevamo di questa problematica che riguardava il Terracina, fino all'ultimo non sapevamo nulla, di fatti adesso siamo qua pronti per fare un allenamento perché il Terracina non si è presentato. Lei è stato tecnico del Terracina, insomma al di là dei tre punti che otterrete comunque dispiace da un punto di vista sportivo il fatto che una società sia comunque costretta a rinunciare? Beh sì, sportivamente dispiace perché è normale che la cosa più bella che c'è è giocare la domenica, però sappiamo che ci sono dei problemi in casa del Terracina e pensavamo che potessero arrivare ugualmente, però fino all'ultimo momento non avevamo la certezza e l'abbiamo avuta questa mattina verso l'ora di pranzo, era l'una, ci hanno avvisato e hanno detto che il Terracina purtroppo non sarebbe venuto. Da una parte dispiace perché avremmo voluto giochiare perché già due domeniche non giochiamo, per cui sicuramente giovedì faremo un amichevole perché ci dobbiamo preparare bene per la trasferta di domenica prossima ad Anzio Lavigno.